Ciao! Allora, faccio questo video perché sia il mese scorso che questo mese, incredibilmente c'è ancora, quindi bisogna approfittarne, c'è il diffusore Bubble. È un diffusore che io in tre anni non avevo mai visto, ne sono entusiasta, talmente entusiasta che ne ho sei. Non prendetemi per matta, ma è veramente favoloso. Allora, ve lo faccio vedere sia come arriva che come si monta. Allora, questo è il diffusore Bubble. Vedete che è senza filo e non c'è l'acqua. È davvero incredibile. Secondo me hanno fatto davvero una cosa favolosa. Allora, adesso vi faccio vedere come arriva. Questo qui è nuovo nuovo, quindi non l'ho ancora aperto. Dunque, adesso faccio l'unboxing con voi. Allora, c'è un adesivetto sotto, ormai lo so in memoria, ne ho aperti talmente tanti. Lo aprite, ok? Ed ecco qua come si presenta. Allora, si presenta con tutto bello bello incartato, quindi è bellissimo. Ok? Togliete la fatta. E sopra c'è il tappino. Eccolo qua. E poi sotto, quindi non buttate via la scatola che magari non ve ne accorgete, qui incastrato. Lo aprite da di lato, quindi da questa parte. E c'è il caricatore per essere caricato tramite USB oppure anche tramite la presa. Magari se avete una presa dove inserire appunto l'USB. E poi dietro avete la spinetta. Qui ci sono le istruzioni, che ovviamente non vi leggo, però leggetele perché ci sono un po' di informazioni importanti, come quelle della pulizia. Perché ci dimentichiamo sempre di pulire i diffusori, poi ogni tanto quando ci accorgiamo che non funzionano diciamo, oi boh, forse va pulito. Allora, come si fa a pulire? Comunque, brevemente, basta con un cotton fioc pulire la parte davanti, quindi questa dove esce l'olio. Ed eventualmente, insomma, pulire anche la parte interna. Ok? Allora, poi vabbè, poi ve lo leggete. Allora, come funziona? Lo prendete, staccate il tappino, ok? Conservatelo. E poi, con questo movimento, quindi quando avete l'olio in mano, rovesciate praticamente il bubble sul flacconcino di olio, ok? E lo avvitate, in modo da ottenere esattamente questo, ok? Allora, dietro c'è una levetta che indica normal e high, e al centro off. Allora, normal è, diciamo, la spruzzata, ma adesso ve la mostro, velocità normale. Mentre la high è quella un po' più forte. Allora, per darti l'idea, io l'ho messo nei bagni, in corridoio, nei due corridoi, nei due bagni. Poi ne ho messo uno in ingresso e uno me lo sono messo in macchina. Ecco, in macchina non lo lascio sempre acceso. Ogni tanto, quando ne ho bisogno, do una spruzzata e poi lo spengo. Puoi anche fare così, ok? Allora, adesso mi metto un po' lontano per farti vedere la spruzzata. Questa è la normale. Ok? E vedi che resta un colore bruastro. Questo è il sensore. Se io adesso continuo a passare davanti, non va, perché è temporizzato, perché sennò continuerebbe ad andare, ok? Dopo un po' di tempo, se resta comunque così in automatico, se qualcuno passa davanti o un movimento, ed è anche molto sensibile, perché per esempio io ce l'ho in ingresso, e quando magari passo anche lontano, lo sento che parte. E poi c'è la velocità, diciamo, più forte. Ecco, si vede di più. Ecco. E ha finito. Anche questa, se passo davanti al sensore, si è appena spruzzato, non va. Se io invece spengo e riaccendo, riva di nuovo, ok? Quindi, per esempio in macchina, anche per chi soffre di mal d'auto, potete anche tenerlo spento. Mi raccomando, attenzione agli occhi, perché mi è successo che avevo messo la menta, e poi per sbaglio ci sono passata davanti e mi è data la menta negli occhi, quindi state attenti, soprattutto se state guidando. Magari lo mettete un po' in alto nella macchina, lo fate andare e poi lo rispegnete, ok? Spero di avervelo fatto vedere bene, perché secondo me è davvero una chicca, 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 che non va assolutamente lasciata. Vi ricordo che è edizione limitata, cosa vuol dire che quando finisce l'esaurimento non ci sarà più, ok? Ciao e buona serata!